Mi appello ai cittadini affinché alle prossime elezioni votino Pierezio Ghezzi. Con queste parole l'ex presidente di SM, l'ingegner Sergio Bariani, annuncia il sostegno al candidato di centrosinistra per il ballottaggio del prossimo anno. Ma specifica, sarà un ballottaggio tra due personalità molto diverse e non tra partiti. Ghezzi è una persona che conosco da anni, un manager importante, che non ha bisogno della politica per vivere e che si è messo a disposizione della città. La sua è una lista civica aperta al volontariato, ai professionisti, commercianti ed artigiani. Ci sono persone che da troppo tempo governano la città e che hanno perduto il senso vero della politica. Piena soddisfazione è stata espressa da Pierezio Ghezzi, che ha sottolineato quanto la figura di Bariani sia apprezzata dal mondo cattolico e dalla città tutta. L'ex ingegnere, ha detto il candidato sindaco, è stato estromesso da SM proprio per la sua gestione trasparente e rispettosa, lontana dal dirigere appalti verso gli amici degli amici come ha sempre fatto Barbieri. Vogliamo cambiare Voghera con una nuova classe dirigente, con persone che abbiano una reale competenza. E a tal proposito, Ghezzi ricorda il caso dell'ex direttore generale di SM, Luca Pierani, chiamato nel 2011 dall'allora sindaco Barbieri e la cui nomina venne poi giudicata illegittima dal tribunale di Voghera. Non aveva nessuna competenza e costò all'azienda 750 mila euro, ricorda Ghezzi. Ma Bariani avrà un ruolo nell'ipotetica giunta di centrosinistra? Non ne abbiamo ancora parlato, spiega l'ex direttore generale di Linea Più, ma le sue competenze verranno certamente utilizzate. L'attacco di Ghezzi verso Barbieri è durissimo. Bariani ha conosciuto la gestione dell'ex sindaco di Forza Italia e se ne è distaccato. Dobbiamo mettere fine a questo gruppo di potere che va allontanato dalla città. E si torna anche sul caso SM. Se Barbieri più di una volta ha smentito le voci che lo voleva un autore di un tentativo di cessione di vendita e servizi, Bariani non sembra ricordarla allo stesso modo. Quando sono stato nominato presidente di SM c'era in corso una trattativa per la cessione di SM vendita e servizi. La cassaforte di SM allinea Più. SM, in collaborazione con l'amministrazione Barbieri, stava portando avanti questa trattativa che avrebbe portato la cessione di un bene importante senza vantaggi per SM. Assolutamente un cattivo affare per noi. Ne parlai con il consiglio di amministrazione e con il comune e dimostrai che questa operazione non era nell'interesse di SM. Ne parlai anche con Ghezzi, allora direttore generale di Linea Più. Gli spiegai i motivi che non ci consentivano di proseguire con la vendita e devo dire che ho trovato in Ghezzi molta correttezza. Linea Più avrebbe potuto chiedere i danni ad SM per l'interruzione della procedura, ma non lo fece proprio grazie all'intervento di Ghezzi. E con una stretta di mano Ghezzi saluta ufficialmente il suo nuovo e importante alleato, promettendo ulteriori scoop elettorali nelle prossime settimane.